Sul Cervati va in scena lo spettacolo Il gigante della campagna, un titolo che pone in evidenza il record del maestoso monte che insiste nel territorio del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. È il più alto della regione campagna, 1.899 metri d'altezza. Ed è proprio sulla sua vetta che domenica mattina alle 12 sarà proposta la rappresentazione teatrale scritta, diretta e interpretata da Enzo d'Arco e la sua compagnia, la Cantina delle Arti. L'evento è stato presentato presso la sede del Parco a Vallo della Lucania e si inserisce nelle azioni avviate dall'ente per valorizzare il suo patrimonio naturale. Il prossimo agosto, ad esempio, il presidente Tommaso Pellegrino firmerà un protocollo d'intesa con il presidente nazionale del CAI, un accordo che affiderà al club alpino italiano la gestione dei senchieri. I suoi volontari dovranno occuparsi della segnatura, mappatura e manutenzione, un protocollo che dovrà servire a garantire la fruizione costante dei numerosi percorsi che attraversano colline, monti e fiumi dell'aria protetta. Intanto, domenica prossima, 22 luglio, tutti gli appassionati di escursionismo e non solo, si raduneranno sul Cervati per assistere allo spettacolo e il gigante della campagna. Subito dopo, il pubblico potrà accomodarsi nella sala da pranzo all'aperto, a circa 2000 metri d'altezza, e consumare il pranzo preparato con prodotti della ruralità contemporanea. Chi lo vorrà potrà fermarsi a dormire anche nel rifugio in montagna, prenotando il posto letto.